Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono Merlo e oggi siamo qui in un nuovo tutorial su Geometry Dash Questa sarà una nuova serie che voglio portare avanti per un po' di tempo su questo canale e sarà appunto una serie di tutorial su Geometry Dash per quanto riguarda il level editor Vi spiegherò qui, magari vi consiglio di seguire questi video se conoscete già un po' che cos'è Geometry Dash e volete entrare nel mondo della creazione dei livelli, volete dedicarvi ad essere creator anche se non sapete bene da dove partire, cosa fare, da cosa cominciare essendo che io sono un creator abbastanza professionista ho deciso di creare queste serie di video per un po' spiegarvi inizialmente le basi e poi andare sempre più avanzato per suggerire i design e parlare un po' insieme di questo fantastico mondo che è il creare livelli su Geometry Dash Ora io vi chiedo scusa in anticipo se la registrazione laggerò un poco è che purtroppo il mio registratore abituale non registra questo gioco su Steam per qualche stranissimo motivo e quindi ho dovuto ripiegare su Fraps che è un registratore che io odio totalmente non riesco a sentare, mi fa schifo e mi fa laggarissimo, però non so il motivo e quindi sì, accontentatevi, mi dispiace se magari avete qui sotto nei commenti da suggerirmi qualcosa per registrare scrivetemelo tranquillamente e sarò felice di provarlo allora innanzitutto andiamo a vedere che cosa vuol dire creare dei livelli su Geometry Dash creare dei livelli è pubblicare degli stage creati da noi nella griglia che è questa qui, nella nostra fantastica griglia per fare in modo che vengano poi provati dalla gente su internet per esempio proviamo il primo della categoria Feature perché trovo abbrassare i migliori ed eccolo qua, questo è un livello creato dagli utenti lag estremo è un livello creato da un utente non è un livello originale dei 18 originali e mi sta laggando troppissimo mi dispiace però vabbè ad ogni modo andremo avanti dai primi passi e poi alla fine di questo tutorial giungeremo alla fine dai giungeremo alla fine allora ho detto un po' di cagate tutorial però ad ogni modo questo è pure episodio quindi vi voglio spiegare un po' delle basics che bisogna conoscere per creare dei livelli su Geometry Dash allora cominciamo questa è la nostra griglia in questa griglia noi potremo piazzare i blocchi che sono divisi in categorie qui sotto per essere più comodi a trovarli questi sono i blocchi sui quali si può effettivamente camminare o comunque i blocchi principali quindi mettiamo per esempio una cosa così poi qui ci sono le piattaforme che possono essere così magari mettiamo le collegate che fa più figo puff poi abbiamo le linee perché alcuni di questi blocchi come potete vedere facciamo un esempio questo e devono fatti in modo così quando noi li piazziamo così nel mondo non si possono non si può camminarci sopra andiamo a vedere vedete che scendiamo e per farci camminare sopra dovremmo aggiungere appunto gli oggetti che ci faranno camminare sopra quindi le righe che potremmo anche mettere fuori per il mondo così e fare in modo che sembrino dei blocchi anche se in realtà all'interno non c'è niente poi abbiamo le diagonali bam 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 che sono diagonali abbiamo quelle inclinate di 45 gradi e quelle inclinate di 60-30 gradi se noi le mettiamo così e questo livello fa già schifo poi abbiamo le spine che sono gli ostacoli principali non so facciamo così e proviamo a giocare il nostro livello e potete vedere che se noi andiamo su una spina ovviamente moriamo quindi se noi holy shit quanto sta laggando mentre se noi andiamo così appunto come ho già detto non ci faremo niente e queste sono un po' le nostre basi sono un po' i nostri blocchi principali che vogliamo guardare vi faccio notare questi tre blocchi qui che sono importantissimi questi sono i corner pieces sono gli angoli vedete per esempio qui che sono sconnesse le nostre diagonali per far diventare tutto più bello è praticamente obbligatorio perché se no vengo a casa vostra mettere i corner pieces perché io non sopporto i livelli senza corner pieces quindi vedete che ne abbiamo se ne zoomiamo un bel po' ne abbiamo uno fatto apposta per le diagonali di 45 gradi che è questo qui vediamo se riesco a piazzarlo piccolo momento di panico e sì abbiamo quello fatto apposta per le diagonali a 45 gradi vedete che se noi lo piazziamo sul blocco qui è fatto apposta abbiamo quello fatto apposta per le diagonali a 30 gradi vedete che è un po' diverso da questo magari ve li metto un po' più vicini a confronto vedete che sono un po' diversi questo è un po' più piccolino e poi abbiamo quello quadrato che serve per i blocchi quindi per esempio se noi dovessimo creare una struttura così con dei blocchi e fatemi pensare cosa può essere una dimostrazione pratica dell'utilizzo di corner piece potremmo creare una struttura così vedete che mancherà qualcosa e potremmo utilizzare il nostro corner piece per completarla molto bene ora andiamo a guardare un attimo le funzioni dell'editing prima di continuare con le nostre tab perché qui da questa tab in poi sono cose più avanzate che potrebbero non servirvi per creare il nostro primo livello queste sì ma queste sono le basi alla fine allora andiamo a vedere le funzioni qui intanto c'è build e è dove voi troverete tutti i vostri blocchi e potrete costruire le vostre cose poi qui abbiamo edit dove si potranno modificare le cose vedete che se noi clicchiamo su un oggetto potremo selezionarlo infatti è circondato di verde e possiamo modificarlo spostandolo un poco in su un poco in giù un poco in qua un poco in là spostandolo di un intero scacchetto in su in giù in qua in là specchiandolo adesso non è molto evidente con questo blocco ma probabilmente con un blocco con questo è già più evidente vedete che se noi non con questo ma con questo vedete che adesso la riga è girata di così se noi lo specchiamo ovviamente si girerà di così e stessa cosa se noi prendiamo questo blocco qua quando noi lo specchiamo vedete che andrà in su e in giù in giù in giù in giù in giù è semplicemente una funzione di specchio dopo di che potremo ruotare i nostri blocchi di 45 comunque potremo ruotare i nostri blocchi non solo specchiandoli ma anche ruotandoli e poi potremo postare le nostre cose di 1,2,3,4,5 scacchetti per spostarle in qua e là velocemente anche se queste appunto sono la seconda pagina sono funzioni che si usano un po' poco principalmente si usano queste e io siccome sono sull'editor di steam al momento posso usare la Q per girare le cose la E per girarle dall'altra VASD per muoverle in tutta libertà CTRL-UASD per compiarle ed incollarle CTRL-Z per tornare indietro con quello che ho fatto e poi CTRL-X CTRL-C per tagliare e incollare i blocchi eccetera insomma tutte le funzioni che avete anche un po' su Word sono presenti sull'editor di steam che è comodissimo a mio parere in più facendo ALT e Q o E possiamo specchiare il blocco quindi è molto comodo eccetera eccetera poi abbiamo la funzione delete dove possiamo cancellare i blocchi semplicemente cliccandoci sopra poi io sto facendo CTRL-Z per farli tornare indietro oppure possiamo settare dei filtri qui potiamo settare un filtro sugli statici quindi solo gli oggetti statici come questi possono essere cancellati potete vedere che per esempio che abbiamo tutti oggetti statici ma se noi voressimo piazzare una decorazione qui così gli oggetti statici questo oggetto qui non si muoverebbe gli oggetti statici sono praticamente tutto quello che un cubo sostiene tutto quello che può passare sopra un cubo facendo un esempio se ne facciamo così il nostro cubo andando qua non cadrà però se ne facciamo così il nostro cubo passando sopra qua cadrà perché sono solo delle creazioni quindi questi non sono statici ma questi si ora io spero che abbiate capito l'ho spiegato un po' male però vabbè details che è il contrario di statics tutte le cose che non possono essere sostenute da un cubo per esempio queste vedete questi non sono considerati statici ma sono considerati dettagli perché come vi ho già fiegato prima senza le righe intorno il cubo non potrebbe starci sopra e poi possiamo semplicemente settare un blocco mettendolo selezionandolo al momento e poi possiamo selezionare un filtro custom che cancellerà solo quel tipo determinato di oggetti e potremo cliccare qui per cancellare tutto quel tipo di oggetti che ci sono nel livello in più abbiamo anche questa funzione che è per cancellare la start pose ma vi spiegherò che cos'è prossimamente ora andiamo a guardare un po' le funzioni che ci sono sui lati superiori dello schermo abbiamo intanto la barra per scrollare tra il livello abbiamo le frecce per tornare indietro e andare avanti con quello che abbiamo fatto che sono un po' il ctrl z e il ctrl avanti abbiamo questo bottone qua che vedete che farà partire la musica e ci farà sentire la musica com'è andando avanti e abbiamo questo bottone qua che ci farà oltre a finire la musica anche andare il cubo nell'editor per vedere un po' com'è senza dover far partire il nostro gioco e poi abbiamo lo zoom in e out e queste sono un po' le funzioni facili poi qui abbiamo le opzioni del livello che vi farò vedere in un momento vabbè la funzione di pausa dove potete salvare il vostro livello e giocarlo proprio giocandolo nel gioco se ha un senso giocandolo nel gioco poi abbiamo le funzioni di copy paste che noi cliccando possiamo copiare un oggetto e poi con l'edit possiamo spostarlo vedete che adesso faccio così magari questo lo cancelliamo costruirò un oggetto qui per fare copy lo sposto vedete che ce ne sono due molto molto comodo abbiamo il pulsante edit object che è pieno di funzioni questo è un pulsante molto importante non dimenticatevelo in ogni modo la sua funzione principale è quella di settare il colore di un oggetto adesso piazzerò questo oggetto qui potrò settare che sia nel colore del giocatore 1 o 2 che sono i colori dell'icona 1 o 2 l'artpg che è semplicemente il colore dello sfondo un po' più chiaro default che è quello che è di default ogni oggetto ha una cosa di default quindi ad esempio questo credo che sia il colore del giocatore 2 quindi dovrebbe essere giallo no è l'1 quindi arancio perché il mio colore 1 è arancio dopodiché possiamo settarlo come colore 1, 2, 3 o 4 che sono colori customizzabili che possiamo scegliere noi qui dentro nelle opzioni del nostro livello vedete se io adesso metterò il colore 1 rosso e poi dirò le sfide di essere il colore 1 diventeranno viola perché è il simbolo del colore 1 e quando io farò play vedete che saranno rosse come questi oggetti qui sotto perché anche se non ho settato nulla il loro default è di essere il colore 1 e quindi sono diventati il colore 1 se io gli dirò di essere light bg saranno azzurrini perché il nostro bg è azzurro e il bg più chiaro è semplicemente un azzurro più chiaro spero che per voi abbia senso perché per me lo ha dopodiché abbiamo il pulsante edit group che è molto utile infatti potremo settare dei gruppi di default tutto sul gruppo 0 ma poi potremo per esempio selezionare queste cose qui a essere del gruppo 1 vedete che ora sono deselezionate e noi non possiamo più fare nulla non possiamo più possiamo costruirci sopra non possiamo più fare nulla su questo livello però spostandoci con questa frecetta passeremo nel gruppo 1 e adesso non potremo fare nulla qua oppure se stannoci indietro del tutto avremo il gruppo all e qui ci sarà un po' tutto quello tutti i gruppi sono raggruppati in un'unica cosa io solitamente uso mettere nel gruppo 0 il vero percorso e nel gruppo 1 le decorazioni per avere un po' separato e dopo di che abbiamo il pulsante deselect che semplicemente quando noi avremo una cosa selezionata e magari abbiamo perso traccia di dov'è basta cliccare il pulsante deselect e la toglierà dalla selezione ora andiamo un po' a vedere le opzioni del livello qui potremo settare la velocità a cui parte il livello per esempio se io adesso faccio lento potete vedere che il mio gioco parte lento il cubo vedete che è più lento di prima oltre che sta laggando come un cane e se noi mettiamo super veloce ora il cubo sarà super veloce e anche il livello sarà impossibile perché è stato fatto per una velocità normale potremo scegliere con quale modalità partire quindi per esempio se io adesso scelgo ufo il livello partirà automaticamente in modalità ufo senza dover mettere un portale e poi potremo scegliere la canzone del livello potremo scegliere tra le 18 originali e in più potremo selezionare una canzone custom andando sul sito all'interno dello spazio qui search loading e troverà la canzone poi dovremo scaricarla da ogni modo ora non andrò a scaricarla e potrete utilizzarla nel vostro livello ora sceglierò una canzone che ho già salvato per esempio Hamsin Makau perché no e ora il nostro livello avrà la canzone Hamsin Makau che è la canzone di Farifunk però sì allora guardiamo un po' di cose più avanzate potremo scegliere anzi tra il resto il background vedete che adesso metterò questo e il terreno quindi se voi guardate qui dietro è cambiato e se noi facciamo play vedete il terreno e il background sono di quel di quel caratteristica che abbiamo scelto e poi potremo selezionare mini dual per fare in modo che il nostro cubo sia mini piccolino e dual quindi doppio oppure potremo fare in modo che ci sia la modalità due giocatori e che quindi insomma la modalità giocatori quando noi clicchiamo sulla parte sinistra dello schermo controlleremo un cubo e sulla destra controlleremo il secondo cubo quindi si molto molto carino e queste sono un po' le opzioni del menu e è tutto quello che potrete fare quindi queste sono le vostre basi del primo editor di geometry dash ora guardiamo un po' le altre tabelle prima di concludere l'episodio abbiamo la tabella dei blocchi 3d che sono una cosa molto avanzata magari andiamo sul gruppo 1 per farla così riusciamo a capire meglio e creiamo delle linee 3d che vadano così così e così molto base poi potremo scegliere un blocco come questo e riempire il 3d all'interno e qui verrà un po' storto perché naturalmente siccome abbiamo dovuto storgere quello ad ogni modo se noi facciamo così dovrebbe venire abbastanza bene e se noi poi facciamo save and play potete vedere che il nostro 3d è in place sebbene noi l'abbiamo messo nel gruppo 1 quindi tutto il resto non si vede poi basterà fare così e vedremo tutto il nostro 3d potremo per esempio anche fare un 3d alle diagonali con questo blocco poi dovremo collegarlo lì sopra che è un lavoro molto difficile quindi al momento non lo farò e si comunque abbiamo tutto il 3d abbiamo tutti i blocchi da riempire per usare il 3d sono tutti i blocchi fake quindi sono tutti considerati detail quindi potrete farvi tutte le decorazioni che volete per esempio così attenzione damn decorations ok damn decorations vedete che saranno lì e non faranno niente al vostro cubo potrete anche piazzarle tra la strada sono tutte invisibili quindi non potrete camminarci sopra tenetelo bene a mente dopodiché avremo le piattaforme e i portali se giocate già a geometry dash e vi invito caldamente a guardare questo video solo dopo che sapete che cos'è geometry dash dovreste già conoscere la maggior parte di questi cosi dovreste conoscerli tutti se non la maggior parte ma dovreste conoscerli tutti perché sono proprio le basissime quindi si e quindi qua potrete piazzare tutte le vostre cose per cambiare le vostre modalità facciamo così per esempio e vedete che adesso abbiamo la nostra piattaforma che ci va boink paghiamo il coso e boom il wave si tutto molto easy e poi abbiamo le decorazioni da terra quindi queste sono tutte le decorazioni fatte apposta per essere messe per terra oppure per essere ruotate con questo bottone qua che non vi ho ancora fatto vedere fra un attimo lo farò vedere possiamo girarle e piazzarle vedete sulle diagonale comunque sono tutte fatte per essere messe a terra e poi abbiamo le decorazioni da aria tra virgolette anche se queste catene io consiglio veramente di metterle per terra perché sono più faighe e anche se proviamo a dare un colore anche al colore 2 così vi dimostrerò la differenza dei colori ora il colore 2 quindi queste catene sono arancio possiamo mettere per esempio queste qui sotto anche se fanno schifo però va bene e poi abbiamo tutti i nostri connectors che sono delle cose molto importanti infatti queste sono delle specie di catenine anche se ce ne sono diversi tipi sono chiamate connectors e sono chiamate così perché vedete che si connettono quindi sono fatte apposta per essere usate così alcune hanno delle curve anzi quasi tutte hanno le curve noi potremmo metterle così e poi così e voilà dopodiché abbiamo i lampeggianti questi sono tutti oggetti che vanno a ritmo con la musica infatti quando la musica andrà più forte loro lampeggioranno più forte e quando la musica andrà più piano lampeggioranno più piano vedete quando la musica comincia pam partono subito e con lo stesso funzionamento andranno anche queste orb in caso non ve ne siete mai accorti poi abbiamo le motoseghe che sono la penultima categoria sono delle spine più fighe e abbiamo quelle nere quelle da hexagon force quelle da blast processing quelle da electro adventure che prendono il colore dello sfondo queste qua e non potete cambiarlo queste che sono uguali a queste ma invisibili e poi abbiamo tutte le decorazioni da motosega a parte queste comunque abbiamo anche queste e queste che sono considerate motosega abbiamo tutte le decorazioni che sono per esempio gli ingranaggi i tondi sono le decorazioni più belle a mio parere i cosi qui i fiori gli esagoni i cosi che girano questi non so mai come chiamarli e vedete che il nostro livello è un po' più ricco anche se con questi colori fa veramente schifo quindi non preoccupatevi questo non sarà il nostro livello finale per il tutorial questo è solo un po' per farvi vedere tutti i blocchi che ci sono ed infine abbiamo i cambiatori di colore non so bene come chiamarli ad ogni modo vedete che sono li piazzeremo qui e li utilizzeremo col pulsante edit object e invece che aprirsi la solita schermata si aprirà questa schermata nella quale potremo scegliere il colore da dare all'oggetto per esempio vedete adesso ho fatto il background quindi lo sfondo se adesso metterò verde vedete che a quel punto del livello dove l'ho piazzato il background diventerà verde ma non il pavimento perché tenete conto che sono due cose diverse se volete far diventare sia il background che il pavimento verdi insieme dovrete ticcare tint ground e in più se hai il fade time che sarà il tempo che ci metterà il background a cambiare vedete che se adesso io metto questo all'inizio del livello proprio appena il player tocca non diventerà verde istantaneamente ma ci metterà un po' a diventare verde se fate caso vedete non è ancora diventato verde ed ora è diventato verde perfetto questo è un po' il fade time e poi abbiamo l'opzione touch trigger che vuol dire che si attiverà il cambiamento di colore soltanto quando il player toccherà quel coso quindi se noi lo mettiamo qua soltanto quando il player toccherà questo particolare oggetto il colore cambierà questo c'è per il background che è lo sfondo il ground che è il terreno la line che è la linea che separa lo sfondo dal terreno vedete che se adesso lo mettiamo qui un line per esempio qui così lo facciamo touch trigger e lo facciamo rosso vedete che quando il nostro player toccherà quel specifico cubo la linea diventerà rossa vedete la linea solterreno è diventata rossa perfetto poi abbiamo il colore 1,2,3,4 che sono quelli customizzabili che possiamo cambiarli durante il livello abbiamo disable enable scia quindi scia nome tecnico se voi vedete a questo punto di livello si attiverà una scia dietro di me e poi abbiamo tutti questi che sono il modo in cui gli oggetti appariranno davanti a voi è un po' complicato da spiegare vedete che la transizione degli oggetti che vi compariranno davanti sarà diversa ad ogni modo sono cose più avanzate quindi le guarderemo in un episodio più avanti del nostro let's play del nostro tutorial e poi abbiamo la start pose che è semplicemente una posizione da cui partirà il nostro cubo per provare il livello questo è comodo se abbiamo dei livelli lunghi e vogliamo provare specificatamente una parte e poi possiamo semplicemente fare delete all start position e andranno via tutte quante e questo è quanto per la prima parte del nostro tutorial sul level editor abbiamo creato un livello spedoso nella prossima parte comincieremo a creare il vero livello per il nostro tutorial poi vedremo cosa fare così e vi spiegherò passo per passo come creare un livello decente e degno di questo nome ma per intanto per questo episodio è tutto io vi ringrazio della visione vi rimando ai prossimi video che caricherò e ciao ragazzi vi ringrazio